dj chiama italia prima che tu arrivassi uomo abbiamo parlato sia di baratto che casualmente partendo da alcuni messaggi che sono arrivati di questo rito ormai un po perduto di uccidere gli animali che poi vengono mangiati no è una cosa brutta da raccontare però in verità gli animali non è che si possono mangiare vivi e quindi qualche modo qualcuno deve farlo a volte lo si fa anche in maniera autoctona e questo magari un po ci sono anche delle dei modi sacri per uccidere i boscimani tu sai che prima di uscito di uccidere un animale fanno una preghiera cioè una preghiera gli aborigeni anche in australia cioè pregano perché comunque ringraziano ringraziano di aver avuto l'opportunità di cibarsi perché comunque tieni presente che l'uomo se noi siamo così perché mica sempre mangiavamo cioè se ci sono ad esempio se non riusciamo a bruciare i grassi quella famosa teoria grassi proteine e carboidrati perché ci sono perché facciamo fatica a bruciare i grassi perché i grassi ci dovevano servire come riserva per quel periodo in cui non mangiavamo quindi addirittura proprio la nostra fisiologia è fatta così però comunque oggi come oggi determinato cibo si può evitare che si è arrivato armato di un libro che sembra fatto apposta perché parla di questa caccia alle balene che puntualmente ogni anno fanno i giapponesi che appena partita di quelli che cercano di combattere non ci sono solo i giapponesi al mondo ci sono tre nazioni che non hanno mai firmato questo protocollo chiamiamolo così contro la caccia delle balene però le altre due diciamo si sono un po calmate che sono l'islanda è un paese fantastico sotto tutti i punti di vista però questa è l'eccezione che conferma la regola è la norvegia anche loro non hanno firmato però si sono un po calmati nella caccia chi non si è calmato e sono scatenati sono i figli del sollevante per un attimo ho temuto figli di qualcos'altro queste qui tra l'altro c'è una legge che vieta la caccia alle balene al di sotto dei 40 i famosi 40 gradi di latitudine quindi dove è facile trovare le balene cioè i 40 e i famosi i 40 ruggenti si si ne hai parlato un sacco i 60 come sono urlanti ormai ho imparato la lezione ecco lì non si può cacciare la balene però cosa fanno arrivano queste baleniere pensa sono attrezzate addirittura per congelare subito il pezzo sono delle fabbriche però c'è un'organizzazione fortissima in pratica questo watson si chiama lui in pratica è uscito alcuni dicono che è stato cacciato da greenpeace perché lui faceva parte di greenpeace altri dicono che le sue si è specializzato per difendere soprattutto gli animali di mare in particolare le balene perché comunque è uno molto combattivo cioè nel senso non dico che va annoverato negli ecoterroristi però è uno ha capito tira sulla bandiera dei pirati si parla in questi giorni di pirati lui usa la bandiera dei pirati ha in pratica questa questo ex peschereccio ma tutto nero cattivo con sopra a bordo c'è un equipaggio incredibile cioè dal figlio cosa fa assalta le baleniere assaltano le baleniere in pratica loro cercano di mettersi ad esempio hanno questi gommoni hanno questi zodiac hai presente questi gommoni velocissimi li calano in mare e cercano di mettersi tra la balena e le baleniere gli sparano addosso con gli idranti ma anche lui usa gli idranti per andare addosso perché chiaramente anche la baleniera dove fa tutto questo tutto questo avviene nel questo questa questa caccia che lui ha fatto alle baleniere giapponesi nell'oceano pacifico soprattutto nel mare antartico e comunque uno veramente che ha raccontato che è diventato così perché a un certo punto lui si è trovato in una caccia tra una baleniera russa e questa balena femmina in pratica lui è rimasto colpito perché i russi hanno tirato un arpione alla balena femmina e improvvisamente il maschio è venuto a galla cioè è venuto a galla si è alzato per andare non contro di lui ma contro la baleniera no ma lui si è trovato lì in mezzo a un certo punto i russi hanno ucciso anche il maschio a quel punto si è alzato e gli stava per cadere addosso a questo watson lui l'ha guardato nell'occhio ha capito ha capito che non voleva fargli del mare né lui ha la balena nella balena lui capisci che quella volta la balena gli ha salvato la vita e per questo d'ora in avanti lui deve salvare le balene dj chiama italia l'abbiamo l'abbiamo